Eccoci qui, benvenuti in una nuova puntata di FWG Tech, io sono Gabriele Gobbo e oggi parleremo di come ci fregano gli account e molto altro tramite i social network. Ci vediamo dopo la sigla. FWG Tech, la tecnologia in tv, un programma di Gabriele Gobbo. Ogni settimana una nuova puntata con ospiti nazionali e internazionali. Ben rientrati in studio, dicevamo io sono Gabriele Gobbo, un'altra puntata di FWG Tech, la tecnologia ed il digitale spiegati in maniera credo semplice in un quarto d'ora in televisione. I social network, tutti noi abbiamo un account o quasi tutti su qualche social network, qualcuno su uno, magari quello in blu, qualcuno su due, quello delle foto, insomma quello professionale. Ci sono tantissimi social network, molti dei quali molto importanti. Dove nasce il problema e qual è il problema? Il principale è che proprio tramite il social network al quale siamo iscritti tentano di rubarci l'accesso per poi prendere possesso della nostra iscrizione, del nostro account, del nostro profilo per usarlo per scopi illeciti. Perché lo fanno? Perché se riescono a fingersi noi, ma utilizzando il nostro vero account, possono scrivere a tutti i nostri amici, magari proponendo degli investimenti, chiedendo dei soldi, dicendo che siamo in difficoltà o anche lo possono utilizzare per fare truffe più articolate. Ricordiamoci inoltre che tramite i nostri account dei social network, spesso accediamo anche ad altri servizi e ad altri siti. Il famoso login con Facebook. Entro su Facebook, da lì, se vado su un altro sito e vede che sono iscritto, mi chiede se voglio iscrivermi, registrarmi e poi accedere su un altro sito e da lì apro una serie di porte ai malintenzionati che potrebbero riuscire a rubarmi l'account. Ma andiamo con ordine. Quali sono le truffe del momento? La principale è quella di inviarci delle email, dei messaggi proprio all'interno dei social media, cioè i messaggi privati o i messaggi diretti. Oppure ci fanno dei tag, condividono un nostro post, sul nostro profilo. Cosa succede? Che scrivono, ciao, noi siamo quelli di Facebook, hai violato le regole. Clicca qui per fare in modo di sbloccare il tuo account. Quindi fanno finta di averci impedito l'utilizzo dei social network. Siccome utilizzano i loghi, i link simili e poi quando clicchiamo un sito web che è simile a quello della piattaforma al quale siamo iscritti, noi clicchiamo convinti di essere stati bannati o bloccati, inseriamo i nostri dati per farci sbloccare e lì li stiamo regalando ai malintenzionati. Questa è una truffa ormai davvero molto 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 persistente. Veniamo taggati e riceviamo messaggi di continuo da presunte persone che si spacciano per dei controllori dei social network e questa è davvero molto diffusa e ci stanno cascando molte persone. Purtroppo una volta che abbiamo perso il nostro account è veramente difficilissimo riaverlo indietro. Cosa possiamo fare? Prima di tutto non credere a niente di quello che riceviamo. Controlliamo se il nostro account funziona ancora, se riusciamo a scrivere, riusciamo a navigare. Vuol dire che nessuno ci ha bloccato, non abbiamo violato nessuna regola. Altra cosa importantissima, la verifica ha due fattori. Significa che quando cerco di entrare nel mio profilo dovrò mettere il nome utente o l'indirizzo email e la password che ho scelto. Subito dopo, questo non basta, subito dopo ricevo un codice via sms, via mail oppure con una app di generazione codici come quelle delle banche e devo mettere la seconda password che è temporanea e dura pochissimo. In questo modo anche se per sbaglio diamo la password principale agli attaccanti molto probabilmente non riusciranno ad accedere perché il social network richiederà quel codice in stile banca che dura pochissimo, un minuto, 30 secondi e quindi non avendo il secondo codice non possono entrare. Lì forse ci salviamo e poi teniamo sotto controllo le notifiche quelle vere, quelle che abbiamo attivato perché se ci dicono attenzione sei tu che sei entrato nel tuo profilo da New York e noi magari stiamo a Bologna. È chiaro che no e dobbiamo subito prendere provvedimenti e questa è una prima fase. Delle altre truffe che ci sono sono quelle di scriverci dicendo aiuto sono un tuo parente ti scrivo su whatsapp col numero di un amico mi si è rotto il telefono mi aiuti mandami il codice di whatsapp oppure addirittura chiedono anche quello dei social network che ti arriverà mandamelo perché devo sbloccare il mio telefono il mio account insomma si spacciano per una persona che conosciamo. Ovviamente non è vero niente quel codice sarebbe il codice di autenticazione a due fattori potremmo addirittura fornirlo pensando che stiamolo dando il codice del nostro parente perché lui stesso accede al suo profilo anche quella cosa lì facciamo attenzione. Ricordiamoci che noi stiamo sui social network tutto e tutti i giorni li usiamo tantissimo per comunicare per divertirci per stare in contatto con parenti lontani insomma ormai fanno parte della nostra vita abbiamo sempre in tasca il nostro social network preferito quindi perdere quell'account può essere davvero una cosa grave perché ci ritroveremo senza più contatti magari che abbiamo raccolto negli anni e poi come abbiamo detto prima magari con quell'account possono fare truffa nostro nome e poi vai a dimostrare che non sei tu che ha imbrogliato qualcuno e magari vai a processo e poi entrano negli account nei siti web che abbiamo collegato proprio ai social network oppure iniziano a pubblicare foto e contenuti e insulti o foto anche magari in desabiè creati con intelligenza artificiale facendo finta di essere noi e insomma è un po' un problema perdere un account dei social network oggi è una cosa che può risultare molto 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 dannosa. Attenzione perché Meta ha metà sarebbe la proprietaria di instagram e facebook ha lanciato gli abbonamenti a pagamento per non avere pubblicità mentre usiamo i suoi social network non sono obbligatori non sono ancora arrivati stanno arrivando piano piano in europa potremo pagare per non vedere la pubblicità e qui i malintenzionati fanno leva su questa notizia che ha rimbalzato su tutti i giornali hanno già iniziato a mandare email che sembrano avere messaggi addirittura via whatsapp e sempre sui social network fanno dei post taggandoci e dicendo attenzione paga o perderai il tuo social network il tuo accesso noi magari pensando alle notizie che abbiamo letto distrettamente sui giornali abbiamo visto in televisione abbiamo sentito sulla radio ci crediamo quindi attenzione i social network non chiederanno mai paga oppure blocchiamo tutto neanche quelli che hanno detto tra poco saremo a pagamento perché questi abbonamenti sono facoltativi non serve pagare per forza sono facoltativi e continueremo a poter utilizzare come facciamo oggi le nostre piattaforme preferite vedendo la pubblicità esattamente come facciamo oggi quindi attenzione se qualcuno vi dice paga o ti sospendiamo tutto non è vero fate finta di niente purtroppo c'è un'altra truffa che corre lungo i social network soprattutto quello in blu con la f ci taggano su una notizia su un link di un finto giornale con scritto è successo un incidente guarda qui è appena morto e con uno schianto in macchina clicca qui con delle foto che si capisce non si capisce ci viene voglia di cliccare clicchiamo cosa succede finiamo su un sintomo su un finto sito di notizie che racconterà una notizia così ma anche inventata solo che mentre arriviamo lì magari ci stanno entrando nel computer lo scarichiamo un virus oppure ci chiedono dei dati inserisci i tuoi dati per continuare a leggere questo articolo non sai chi ha avuto un incidente attenzione magari un tuo parente oppure un post che ho scritto un tuo parente ha avuto un problema e ci taggano ma veramente sono migliaia quindi attenzione anche lì quando ci taggano a caso ripetutamente con notizie tutte uguali o sul nostro feed dove scrolliamo vediamo tutte ste notizie tutte uguali di incidenti non ci crediamo se dobbiamo trovare una notizia che ci sembra verosimile proviamo andare su google cerchiamo l'argomento vediamo se nella sezione news un sito importante la riporta e allora capiremo se è vera questo è davvero importantissimo perché ormai purtroppo mi dice mi dice brutto anche se non si può dire mi fa brutto dirvelo però davvero girano tantissime falsità sui social network dove ripeto ci taggano ci scrivono ci condividono ci commentano ci sono migliaia di commenti nei nostri post che potrebbero indurci in tentazione purtroppo la gran parte di queste cose è tutta falsa ed è lì proprio per imbrogliarci rubarci gli account rubarci perché no l'accesso alla banca magari ci caschiamo e diamo dei dati poi con quei dati ci ricostruiscono fanno un po di ingegneria sociale quella cosa che prendendo tanti nostri dati riescono a parlarci come se ci conoscessero e poi adesso con l'intelligenza artificiale questi sistemi che simulano la scrittura umana il pensiero umano o lo simulano e basta tranquilli non diventeranno per ora umani potrebbero addirittura aprire una chat con noi man mano che noi scriviamo dall'altra parte rispondono perché l'intelligenza artificiale riesce a rispondere in un modo credibile e magari facciamo mezz'ora di chat e dall'altra parte c'è un computer che tenta di convincerci a fornire dei dati quali dati qualsiasi magari iniziano con la città dove siamo nati se non l'abbiamo già pubblicata sul social ci chiedono la data di nascita ci chiedono un indirizzo email magari alla fine un numero di telefono per mandarci qualcosa addirittura potrebbero fare delle chat per chiederci il numero di carta di credito perché vogliono loro farci una ricarica e mandarci dei soldi perché siamo stati gentili è brutto da dire ma è anche abbastanza facile non cascarci le regole sono sempre le stesse doppia autenticazione come abbiamo detto non credere a tutto quello che ci arriva se non ci aspettiamo di ricevere un messaggio ci arriva così dal nulla in un momento qualsiasi della giornata lasciamo stare probabilmente è falso quindi non credere a quello che riceviamo stare attenti ai nomi che ci arrivano ci sono anche i profili finti che simulano quelli dei nostri amici se è un nostro amico che non ci scrive da dieci anni da cinque ci scrive un messaggio andiamo a vedere che fine ha fatto vediamo se abbiamo ancora il numero di telefono se ci contatta qualcuno con un'urgenza invece di rispondere lì dove ci ha scritto mandiamo un messaggio whatsapp se ci ha scritto su facebook e se ci ha scritto un whatsapp telefoniamogli non crediamo subito alle chat che aprono con noi perché possono essere davvero farlocche e poi occhi aperti orecchie dritte e informiamoci sempre magari scriviamoci al di là di guardare sempre fvg tech iscriviamoci andiamo su bufale.net butac che sono dei siti che sbufalano le falsità cerchiamo di iscriverci a qualche gruppo di aiuto che ci aiuta con le falsità un gruppo ad esempio social media per tutti un gruppo di un amico dove si possono fare qualsiasi tipologia di domande per farci spiegare se una cosa è vera o falsa ci sono tantissimi sistemi per tenerci informati dobbiamo rimanere sempre al passo perché chi ci vuole imbrogliare cerca sempre di essere più avanti e noi ci proteggiamo tentando di essere più avanti di lui l'informazione e la conoscenza sono una cosa importantissima sono il vero antivirus il nostro cervello è il vero antivirus o l'antitrufa ne abbiamo parlato tantissimo al nostro digital security festival tra l'altro sono stati 10 giorni di eventi in presenza 10 eventi online oltre 60 relatori dove abbiamo proprio spiegato che avere le informazioni la conoscenza avere un pensiero critico ci aiuta a non farci fregare perché al giorno d'oggi purtroppo dalle telefonate finte ai messaggi sui social network dall'altra parte visto che ormai si può automatizzare tutto e ci sono dei computer che fanno il lavoro di mille uomini in dieci secondi è facilissimo che ci arrivi qualcosa di falso è talmente vasta la catena di chi lavora tra virgoletto di chi automatizza per fregarci che prima o poi ci arriva qualcosa non è se ci arriverà ma quando ci arriverà insomma spero che questi consigli possono avervi aiutato questa puntata termina qui io sono gabriele gobbo e ovviamente ci vediamo tra sette giorni puntuali su questo emittente non cambiate canale buttate il telecomando visitate fwg tech punto it dove ci sono tantissime tantissime puntate tutte visionabili fin dalla puntata numero uno da gabriele gobbo è davvero tutto e ci vediamo la prossima settimana fwg tech un programma di gabriele gobbo ogni settimana una nuova puntata con ospiti nazionali e internazionali guarda il programma on demand su web youtube e tutti i social network www.fwgtech.it www.fwgtech.it www.fwgtech.it